Dopo la sconfitta al tiebreak con Perugio Soverato prepara l'ostica trasferta di domenica prossima a Marignano, siamo con Francesca Napodano, presentiamo questa gara, una gara sicuramente difficile ma Soverato che si giocherà le sue carte in vista poi della rush finale di stagione, quindi una gara importante soprattutto per la classifica. Sì, è una gara importante come tutte quelle che abbiamo fatto in questo pool promozione perché comunque ogni punto in più che riusciamo a fare è meglio, sappiamo che comunque sarà una gara difficile perché abbiamo visto che comunque in questa pool promozione il livello è molto alto ma sappiamo anche di potercela giocare un po' con tutti, quindi sì è difficile però se facciamo del nostro meglio possiamo fare bene. Domenica scorsa ci sono stati tanti segnali positivi oltre al punto guadagnato contro la capolista Perugia, anche un'ottima prestazione, una prestazione di carattere della squadra, indice del fatto che nonostante le difficoltà di queste ultime settimane, il cambio di palazzetto, il cambio di palestra per gli allenamenti, comunque la squadra sta reagendo bene. Sì sì, effettivamente in questo periodo abbiamo avuto un po' di problemini che ovviamente non dobbiamo usare come alibi perché comunque la palla è rotonda, però sì no, come ho detto prima possiamo giocarcela con tutti a mio parere e quindi ora come ora ci manca se non sbaglio un punto per essere matematicamente playoff e quindi è importante anche giocare bene per arrivare al meglio con la mentalità in eventuali playoff insomma. Infine un giudizio anche sulle tue prestazioni perché nell'ultimo mese anche nonostante qualche sconfitta di troppo probabilmente sei stata una delle più costanti come rendimento quindi pur nelle difficoltà della squadra quindi questo sicuramente è un aspetto positivo frutto del lavoro dei tanti mesi con gli ordini coach napolitano. Sì sì no, vabbè per quanto riguarda le mie prestazioni vabbè cioè sono comunque abbastanza soddisfatta e nulla sapendo comunque che si può sempre fare meglio e niente comunque appunto è frutto del lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno con le compagne di Bruno e Diego e tutto lo staff e quindi posso solo dire grazie per questo e continuare a far così ma cioè come tutta la squadra comunque dobbiamo continuare a darci dentro con gli allenamenti e poi quel che viene viene. Con il vice allenatore Diego Boschini presentiamo questa sfida di domenica prossima del Valle Soverato a Marignano all'andata fu una secca vittoria per il Valle Soverato nel frattempo sono cambiate un po' di cose anche dal punto di vista della classifica un Soverato che deve andare a cogliere gli ultimi punti per accedere aritmeticamente ai playoff. Sì ci manca un punto come dicevi tu adesso per matematicamente essere all'interno dei playoff sicuramente la partita di Marignano è molto importante differenza dell'andata è che a loro mancherà una giocatrice molto importante che è il loro posto 4 americano che si è infortunato purtroppo e quindi sarà una partita comunque complicata perché come abbiamo visto il livello delle squadre dell'altro girone è molto 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 alto non a caso le prime 4 squadre la promozione facevano parte dell'altro girone nel regular season quindi comunque non sarà facile andare in casa loro e batterli noi ci proveremo abbiamo ci stiamo lavorando nonostante tutte le difficoltà del caso palazzetto non palazzetto però ci stiamo lavorando e le ragazze stanno rispondendo bene in questi giorni di allenamento poi veniamo comunque da una prestazione decisamente buona anzi ottima direi contro Perugia contro la prima in classifica quindi morale è alto e ci proviamo presentiamo l'avversario dal punto di vista tecnico una squadra a Marignano che ha comunque diversi elementi di esperienza e che soprattutto in casa ha costruito gran parte della sua classifica sin qui sì sicuramente loro in casa sono molto forti come come Torino perché è un palazzetto molto caldo io non l'ho mai vissuto però me ne hanno raccontato sicuramente la chiave tattica è Manfredini che è sicuramente il loro opposto che attualmente è quello che ha più punti nelle mani quindi sicuramente la partita si giocherà molto tramite questa giocatrice e il loro altro posto qua Trossaguatti che sta facendo molto bene anche nell'ultima partita contro Caserta ha dimostrato di saper reggere molto bene sia in fase di ricezione che in fase di attacco quindi loro due sicuramente sono i problemi più ostici a livello tattico sicuramente poi hanno un buon palleggiatore e molte altre di esperienza che possono dare il loro contributo però noi dobbiamo pensare più al nostro come diceva Bruno anche settimana scorsa con Perugia noi dobbiamo pensare a noi stessi oggi come oggi noi dobbiamo pensare a noi non tanto agli altri e infine in qualità anche di responsabile del settore giovanile una domanda sull'attività del settore giovanile che proprio in queste settimane ha raggiunto anche dei risultati importanti perché disputerà una finale la squadra della prima divisione quindi anche una soddisfazione per te che sei al primo anno assoverato sia in qualità di vice allenatore che in qualità appunto di responsabile del settore giovanile sì sicuramente stiamo facendo bene ecco questo sì devo ammetterlo anche nel settore giovanile perché comunque il primo anno raggiungere le prime quattro squadre di Reggio Calabria con l'Under 18 perché ci siamo andati a giocare comunque una semifinale che poi abbiamo perso merito e onore alla squadra avversaria al primo anno di Under 18 qua in Calabria devo essere tutto sommato sono contento poi le ragazze della prima divisione che hanno raggiunto questo bellissimo traguardo con la finale di Coppa noi lavoriamo, io ci metto tutta la passione in questo mondo, le ragazze l'hanno capito infatti mi stanno seguendo nonostante ripeto tutte le difficoltà perché la chiusura del palazzetto ha reso veramente le cose complicate un po' per tutti e soprattutto per il settore giovanile perché è difficile poi trovare un'altra palestra disponibile con 70 ragazze che fanno questa attività quindi sono contento e questo lo dico con il cuore in mano che la giunta comunale abbia fatto questa delibera cioè questa delibera che abbia fatto questa conferenza stampa in cui ha spiegato le motivazioni per cui è stato chiuso questo palazzetto e sono sicuro che faranno del loro meglio per poterlo riaprire all'inizio di settembre quindi continuiamo a lavorare nel settore giovanile pensando che comunque in un futuro il palazzetto ci sarà anche per le giovanili grazie